Società e campo. La Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il ricorso del socio CIMAV Danilo Iannascoli che chiedeva la rimozione degli attuali amministratori del Delfino. La querelle, lo ricordiamo, è relativa ai bilanci 2015 e 2016. In primo grado lo scorso mese di ottobre il Tribunale delle imprese dell'Aquila aveva respinto il ricorso del socio Danilo Iannascoli che appunto chiedeva la rimozione degli attuali amministratori del Delfino con conseguente nomina di un amministratore giudiziario. Alla sentenza si sono posti legali dell'ex amministratore delegato del Pescara. La Corte d'Appello dell'Aquila ha dunque dato nuovamente ragione al presidente Sebastiani, ai consiglieri e ai sindaci del club Biancazzurro. Il campo e la vigilia di Venezia Pescara. Brugman e compagni vogliono chiudere il discorso playoff soprattutto difendere il quinto posto. Sarebbe fondamentale in chiave spareggi. Indisponibili Campagnaro del Sole e lo squalificato Memusciai. Nel pomeriggio la rifinitura a Mestre. Provino decisivo per Bettella che ha lamentato un risentimento agli aduttori. Si nutre ottimismo. In caso di forfè giocherà uno tra Gravion e Perrotta. Avanti comunque col 4-3-3-4-5-1 che dir si voglia. In mediana scelte scontate. In conferenza Pillon ha escluso l'utilizzo dal primo minuto di Canutè appena rientrato dal lungo infortunio. Ai margini, come detto Memusciai per squalifica, giocheranno Bruno, Crecco e Brugman. Davanti tutt'altro che peregrina l'ipotesi Bellini terminale della manovra con Mancuso e Sottil. Oppure Capone e Sottil a supporto di Mancuso. Per contro il Venezia, terz'ultimo a pari punti col Foggia. Una sola vittoria nelle ultime 14 partite, proprio con i pugliesi lo scorso 13 aprile. Appena 30 gol realizzati. Peggiore attacco della Serie B. Per i lagunari dell'ex Cerse Cosmi non c'è alternativa al successo. 11 confronti in Laguna. Due le vittorie Biancazzurra e la prima nel lontano 1948-49. Reti di Coccia e Rinaldi. L'ultima il 23 febbraio 1992 in panchina Giovanni Galeone. Nelle immagini sblocca Rocco Pagano, splendidamente ispirato da Max Allegri. 2-0 di Di Cara con questo maestoso colpo di testa. Nella ripresa sul rigore a Corcia Andrea Poggi. Al termine di quella stagione fu promozione in Serie A.